Ogni tanto, fra modelli rarissimi e pregiati, destinati a pochi miliardari, in euro o dollari, non in lire, nelle aste di RM Satebis si scova anche qualche oggetto decisamente meno esclusivo. Detto che di ritmo, con un po' di pazienza, in vendita se ne trovano ancora, fine anni 70, inizio 80. C'è da sostituire la 128 e in Fiat non si pensa ad altro. Da una parte c'è la tranquillità di sapere già quale sarà lo schema meccanico alla base della nuova auto, motore anteriore trasversale, avantreno con schema McPherson e retrotreno a ruote interconnesse. Dall'altra. 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 Dall'altra.